mi vogliono candidare sindaco di roma per farmi fuori e il concetto espresso con franchezza da giorgia meloni leader di fratelli d'italia nel corso della conferenza stampa meloni rispondendo a precisa domanda su una sua possibile corsa da prima cittadina della capitale non ci ha girato intorno c'è un sacco di gente che mi vorrebbe candidata a roma tendenzialmente tutti quelli che mi vorrebbero togliere dalle scatole ha detto meloni poco prima dell'incontro con i giornalisti giorgia meloni aveva definito su facebook vergognoso che il senato ha bocciato l'emendamento di fratelli d'italia al decreto covid per posticipare almeno fino alle 24 il coprifuoco ancora una volta commentato meloni la maggioranza in parlamento sostiene le misure liberticide anticostituzionali del governo fratelli d'italia non si piegherà mai a questa pericolosa deriva autoritaria che colpisce senza motivo le attività produttive i cittadini un attacco frontale e una posizione nettamente di opposizione nei confronti del governo ma facebook a parte la leader del partito di destra ha definito intelligente l'iniziativa della lega sul ddl zan il centrodestra di governo in questa fase è al lavoro su un testo unitario contro le violenze alternativo proprio al ddl zan e giusto sostiene giorgia meloni circoscrivere il tema alla discriminazione lasciando da parte materie che non c'entrano niente con la lotta alla discriminazione